Al giorno d'oggi è più importante che mai riuscire a rimanere memorabili. Ecco, pensa a quanti prodotti sei legato proprio grazie ad un claim di successo, ad un payoff di successo. Se pensiamo al payoff, per esempio, pensiamo magari al Just Do It di Nike, oppure al Think Different di Apple, oppure all'Impossible Is Nothing di Adidas. Ecco, queste frasi sono diventate parte del brand. Addirittura, se pensiamo all'esempio della Nike, ecco, ci sono alcuni capi di abbigliamento che non hanno più il brand, ma magari hanno soltanto il payoff pubblicato, magari a rappresentazione del brand stesso. Se pensiamo invece al claim, che è legato più ad una singola campagna pubblicitaria, più che al brand in generale, pensiamo, non so, al crodino analcolico che fa impazzire il mondo, oppure dove c'è barilla c'è casa, no? In questo caso vediamo delle frasi che sono legate più ad una singola campagna pubblicitaria e servono proprio a rimanere più memorabile e rendere lo spot più memorabile e di conseguenza anche il brand. Ecco, grazie a questo video capirai però la differenza in dettaglio tra claim e payoff. A cosa serve? Serve a te nel momento in cui magari pensi a progettare il tuo payoff o pensi magari ad alcuni claim delle tue campagne pubblicitarie. Chi sono io? Io sono un marketer, un digital strategist, aiuto le aziende a crescere, a comunicare meglio grazie al digitale. Su questo canale troverai video, approfondimenti, guide, strategie proprio per imparare a comunicare meglio, per diventare tu un marketer della tua azienda, oppure per delegare meglio, parlando la stessa lingua con le agenzie. Allo stesso momento ci tengo a lasciarti la mia newsletter, è una newsletter periodica, niente spam, anche perché come ho detto in uno dei video passati non ho tempo per questo, dove raccolgo alcune risorse in primis per me, quindi serve a me come una sorta di dispensa e mi fa piacere anche condividerla con te e quindi con le persone che magari sono più vicine a me. Ecco, detto questo, andiamo subito a parlare di claim e di payoff evidenziando alcune caratteristiche, alcune peculiarità di uno e dell'altro. Il payoff è una breve frase, solitamente messa sotto al brand, sotto al logo, che esplicita al meglio i valori dell'azienda, i suoi obiettivi e le sue caratteristiche, diciamo, più importanti. Solitamente il payoff è molto breve, è originale e musicale, infatti molto spesso, come dicevo prima, viene sostituito anche al posto del brand stesso. Quindi, chiaramente, siccome il payoff è legato all'azienda, al brand, a 360 gradi, non alla singola campagna pubblicitaria, dobbiamo spendere molto tempo per trovare un payoff che veramente rappresenti i valori dell'azienda, i valori profondi dell'azienda, valori che non cambieranno, magari, nel breve periodo, ma che sono destinati a sopravvivere con il brand e con l'azienda nel lungo periodo. Il claim, invece, è una frase che è legata ad una singola campagna pubblicitaria, promozionale, ad un prodotto o un servizio. Serve per comunicare meglio la promessa che l'azienda fa per quanto riguarda proprio quel prodotto o quel servizio. Può essere utilizzato anche per promuovere al meglio una caratteristica specifica del prodotto su cui si basa tutta la campagna pubblicitaria. A differenza, chiaramente, del payoff, un'azienda può avere diversi claim, magari un claim per ogni prodotto, un claim per ogni campagna pubblicitaria. Per costruire un buon payoff e anche un buon claim, in realtà, devi ripartire ogni volta dalle basi del marketing. Quindi devi pensare, innanzitutto, alla tua buyer persona, al tuo posizionamento, alla tua value proposition e al tuo posizionamento, alla tua unique selling proposition. Perché, chiaramente, un payoff coerente che rappresenti veramente al meglio il brand deve tener conto di tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima e quindi deve tener conto sia del target, sia delle caratteristiche del brand e dell'azienda. A maggior ragione il discorso vale per il claim, perché il claim, essendo mirato su una campagna pubblicitaria molto spesso oppure su un singolo prodotto, ecco, in questo caso, l'analisi del target e delle caratteristiche del prodotto che si sta promuovendo, del tone of voice che si sta utilizzando, ecco, questo è fondamentale per studiare e realizzare un claim su misura e che sia di successo. Bene, con questo chiudiamo questo breve video. Spero che ti sia chiara la differenza tra claim e payoff. Comunque, sul web trovi tantissimi esempi di claim e payoff di successo e scommetto che il 90% di questi tu li conosci già. E in ogni caso, se questo video ti è piaciuto e o vuoi approfondire, insomma, altri aspetti, le basi del marketing o comunque strategie di digital marketing, dai un'occhiata al mio canale e iscriviti per non perderti il prossimo video. Ti ricordo ancora che se vuoi rimanere aggiornato sui miei contenuti, se vuoi avere altre risorse di approfondimento, strategie, avere alcuni dei miei casi studio, quindi roba che faccio con i miei clienti, ecco, iscriviti alla mia newsletter che ti linko qui sotto e ci aggiorneremo periodicamente. Detto questo, io ti saluto e ci vediamo, ci sentiamo presto. Dagli tutta!